Provate a confrontare storie personali e curriculum di chi è stato indicato per governare questa terra da Micari e quelle che sono invece le proposizioni del Movimento 5 Stelle o del centrodestra. E' chiaro che viaggiamo su due mondi diversi, non c'è paragone e invito chiunque voglia sfidarci sui contenuti e nel merito a farlo.